NANANANANANANANANANANANANA NANANANANANANANANANANANANANANAAAA Allora, io ho giocato solamente a Fire Emblem in fate, no? Birthright perché noor è troppo difficile caspio l'ho fatta in principiante normale e perdevo sempre perché boh mi moriva sempre elise che palle e quindi mi hanno consigliato di giocare all'emblema di fuoco la spada fiammeggiante e dobbiamo creare lo stratega ci chiamiamo così ecco si a che mese? a ottobre vero sesso maschio si la voce delle pianure hai perso i sensi lassù sulle pianure sono l'inde la stirpe dei lorca ora sei al sicuro chi sei? dal tuo aspetto si direbbe che sei in viaggio da molto tempo cosa ti porto sulle pianure di sakai? ti va di raccontarmi la tua storia? hai sentito? cosa è stato? vado a vedere cosa succede avun aspettami qui oh no i banditi mannaggia ti dimostro io e dove sono mart e hike? adesso attacchiamo spero si attivi tipo astra perché mi sa di sword master no ma scusa eh dove sono le abilità? ma perché non ci sono le abilità dello sword ma che gioco di merda non ci sono le abilità e adesso come faccio attivare flagello? che poi ho visto che non c'era neanche la modalità principiante no? e quindi se mi muoio l'inuita muoio un per davvero che gioco di merda oh no e batta de beast oh va che bello c'ero ma questo non erro mi hanno ingannato che gioco di merda meglio tornare su fire emblem phase quello si che è un vero fire emblem libidine che gioco di merda